Siamo con il dottor Lorenzo Terranova. Il modello sembra poter garantire stabilità della spesa e miglior servizio per il paziente, ma qual è la relazione fra libertà di scelta e competitività fra le aziende fornitrici? La ringrazio della domanda. È un tema estremamente importante perché migliore e maggiore è la concorrenza con un ruolo forte da parte dell'ASL e da parte della regione in termini di controllo e in termini di verifica dei prodotti. Le aziende saranno tenute a competere non tanto sul prezzo quanto sulla qualità. La qualità dà vantaggio al paziente, la concorrenza è importante per le aziende perché in questa maniera noi cerchiamo di spingerle verso un ruolo anche innovativo e non nel vendere un prodotto al prezzo più basso. Ultimo aspetto che vorrei sottolineare è nella proposta del CERGAS Bocconi il ruolo del cancelling, cioè noi abbiamo un supporto per il paziente nel poter maturare la propria esperienza e poter decidere in maniera più autonoma ma anche più basata sulla propria esperienza. Credo che questi siano i punti essenziali della proposta CERGAS.